Ciao a tutti quanti, allora oggi ho deciso di parlare di diete, come sapete non sono una nutrizione dietologa, ma do la mia opinione sull'arziano. La dieta che oggi parliamo è la dieta Plank, una cosa direttore. Questa dieta è una dieta iperproteica, che predilisce più le proteine, ad questo capitolo dei zuccheri e dei carboidrati. È una dieta molto ferria e difficile comunque da seguire. Vi spiego anche il perché, è una dieta basata su un menù ben preciso da seguire in due settimane e mira ad accelerare il metabolismo anche tramite l'assunzione di caffè a ogni passo. Cosa penso di questa dieta? La trovo tantissimo squilibra perché il nostro corpo ha bisogno di sé di carboidrati, di zucchero e di proteine. Non si può fare una dieta soltanto basata sul proteine. Questa è la mia opinione e spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacio, nel prossimo video. Ciao!